Senatrice Lezzi, allora anche lei è finita nella lista dei 5 Stelle accusati di aver fatto finta di restituire una parte dello stipendio allo Stato. Che cosa è successo? È successo che in realtà io ho qui la ricevuta di un unico bonifico contestato, perché sui 132 e oggi ho anche formalizzato la chiusura del 2017 con altri 5.200 euro e oltre 20.000 euro di indennità di vicepresidente della Commissione Bilancio alla quale ho rifiutato, c'era questo e ho questa ricevuta di questo bonifico dove io leggo rinvio, storno, rifiutato. Ho cercato di ricostruire tenendo conto che questo è un bonifico del 20 gennaio del 2014, quindi un po' datato. E a questo punto ho cercato un po' di ricostruire, io quel giorno ne faccio due, i giorni precedenti ne faccio altri due, in quei giorni noi andiamo a saldare un bel numero di mesi facendo le nostre donazioni perché avevamo finalmente l'Iban aperto in cui poter versare. Cosa è successo? Probabilmente c'è stato uno sfasamento con le valute perché quel giorno arrivava anche l'accredito dell'indennità sulle quali, io devo dire la verità, facevo comunque conto per poter fare queste restituzioni, compresa... anche lei per vivere deve lavorare, immagino, come tutti noi, c'erano circa 15 mila euro che io vado lì a donare, quindi aspetto anche questo accredito dell'indennità, probabilmente ci sarà stato qualche problema. Tengo a precisare che insomma è solo uno, tutto il resto è a posto, è tutto regolarmente in ordine, io li ho fatti sempre comunque lì allo sportello, non li ho mai neanche potuti fare online perché la mia banca neanche lo consente, questo genere di operazione. Quindi insomma tutto chiarito anche con Di Maio, tutto risolto, ma in questi cinque anni lei si era mai accorta che alcuni dei suoi colleghi in realtà facevano finta di dimezzarsi lo stipendio? Purtroppo no, noi abbiamo sempre avuto fiducia in noi stessi, questo era ed è uno dei nostri cavalli di battaglia, una delle nostre prime promesse agli elettori, quindi tradire questa promessa e tradire anche quello che ci ha portato al 2013 a candidarci ad entrare poi in Parlamento, quindi sicuramente non me l'aspettavo. Luciano Fontana, tu direttore tra l'altro hai in uscita, è uscito proprio oggi il tuo nuovo libro che si intitola Un Paese senza leader e quindi non sei nel pieno dell'attualità sulla nostra classe politica, edito da Longanesi. Sei d'accordo quando Di Maio dice che questa vicenda, chiamiamola rimborsopoli, dice che si ritorcerà contro gli altri partiti perché evidenzia comunque che solo i 5 Stelle hanno restituito in tutto mi pare che siano 23 milioni di Euro, di stipendi. Ha ragione o invece pagheranno un prezzo a queste elezioni? Io credo che in parte un prezzo lo pagheranno, soprattutto rispetto al loro elettorato, nel senso che ha ragione quando vuole ben definire qual è la questione, la questione non stiamo parlando di un reato, non stiamo parlando di soldi sottratti alla pubblica amministrazione o ad aziende come accadeva normalmente nelle inchieste che riguardavano questioni di questo genere, stiamo parlando di donazioni che il Movimento 5 Stelle ha fatto per più di 22 milioni mi pare in questi 5 anni, però c'è un tema serio per il Movimento, il tema serio è che è un movimento costruito sulla trasparenza, la fiducia e un rispetto, la mitologia del Movimento vive dell'onestà. Se qualcuno non è onesto, stiamo parlando di 8-10 rappresentanti mi pare, da quello che abbiamo detto, se qualcuno non lo ha fatto c'è un tema sia di selezione in questo caso della classe dirigente e sia di un meccanismo per cui, come dire, la purezza assoluta viene in qualche modo scalfito. Io non penso che avrà un effetto devastante sui risultati, però in qualche modo mette il seme del dubbio nella testa degli elettori molto motivati come quelli dei 5 Stelle. Tra l'altro lo diciamo che l'affare si ingrossa, come si suol dire, perché un suo collega pare che sia fuggito a Casablanca in Marocco, Ivan della Valle. Andrea Scanzi, che cosa ci racconta questa vicenda e secondo te cade l'idea della diversità dei 5 Stelle? Secondo me no. Secondo me non cade, o meglio, non sposterà granché in questo senso. Credo che coloro che ritengono il Movimento 5 Stelle diverso dagli altri continueranno a pensarlo anche dopo questa vicenda. Soprattutto se questa vicenda si esaurisce con gli ottonomi che sono stati fatti, se si ingrossa allora no, qualcosa cambia. Al tempo stesso coloro che già diffidavano altamente nel Movimento 5 Stelle continueranno a diffidare ancora di più. Cioè credo che questa vicenda, la cosiddetta rimborsopoli, radicalizzerà ancora di più le posizioni che di per sé sono molto radicali e divergenti, antitetiche nei confronti del Movimento 5 Stelle. Io trovo, secondo me ci sono due cose da dire sulla vicenda. La prima l'ha riassunta bene due giorni fa Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano, quando ha detto che il problema politico di questa vicenda per il Movimento 5 Stelle è che se loro non riescono a controllare neanche i loro parlamentari, poi fai un po' fatica a chiedere agli italiani di dar fiducia per governare un paese intero. Questo mi sembra il tema politico più importante. L'altra cosa che invece io noto, e lo noto anche con una certa ironia triste, è vedere come il centro-destra e il centro-sinistra si stanno scatenando per attaccare il Movimento 5 Stelle sulla cosiddetta questione morale. Ora, questa vicenda ferisce i cittadini, ferisce gli elettori, ferisce i giornalisti, ferisce tutti noi. Immagino ferisca parecchio anche Barbara Lezzi perché ha rinunciato a un sacco di soldi e scopre che Otto non lo faceva, hanno otto suoi colleghi. Però se c'è qualcuno che non può parlare minimamente di questione morale sono il centro-destra e il centro-sinistra. Il centro-destra in questi anni si è preoccupato della questione morale quanto io mi preoccupo della discografia dei Modà, cioè un po' meno di niente. Per quanto riguarda il centro-sinistra, io lunedì ho sentito Matteo Renzi proprio in quello studio, me li sono segnati, definire il Movimento 5 Stelle un'arca di Noè, fatta da riciclati, scrocconi, truffatori e massoni. Premesso che mi sembra una definizione che pericolosamente potrebbe anche cucirsi addosso al Partito Democratico renziano, però al signor Matteo Renzi che continua sempre a pontificare con questa sua aria un po' tronfia e intrisa di sicumera, bisognerebbe dirgli se vuoi dare lezioni di questione morale, caro Matteo Renzi, togli quei 29 indagati che hai in lista, togli quelli che sono indagati per rimborsopoli vera, cioè per avere, si dice secondo l'accusa, utilizzato dei soldi pubblici a fini privati, restituisci i soldi di Buzzi, quindi la vicenda c'è, ma quando io sento dare lezioni di morale da Brunetta o da Renzi, diciamo che metto metaforicamente la mano sulla fondina. E su questo immagino che lei sia molto d'accordo, Barbara Lezzi, senta due cose, uno, quindi lei esclude che ci possono essere altri casi? Guarda, ieri noi abbiamo fatto un accesso agli atti al MPEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ci ha dato tutti gli estratti da cui abbiamo potuto fare gli intrecci e siamo giunti poi alle somme degli otto, ai nomi degli otto persone che non hanno effettuato le donazioni come tutti gli altri. E qui si pone la questione della classe dirigente. Voglio ricordare che otto persone su 127 parlamentari, più gli europarlamentari, più tutti i consiglieri regionali che abbiamo disseminato in tutta Italia, allora io direi che invece abbiamo una classe dirigente molto sana pur non avendo un controllo serrato da questo punto di vista, in quanto noi non abbiamo accesso diretto ai conti del MPEF, intendiamoci, Luigi De Maio ha dovuto fare un accesso agli atti con tanto di autorizzazione personale di 127 persone per poter accedere a quel contro. Ma lei pensa che sia un'inchiesta sia stata e sia un'inchiesta autonoma quella delle Iene o c'è stata una soffiata al vostro interno? Mi interessa poco, glielo giuro. Mi deve credere perché a me interessa aver scoperto che ci sono otto persone che non hanno rispettato il patto con gli elettori e con i cittadini e a questo punto possiamo ottimizzare quella classe dirigente di cui si stava parlando prima proprio in merito grazie ad un'inchiesta che è stata quella delle Iene a cui dobbiamo dare questo merito. Al di là poi di chi sia... Degli esiti per voi. Luciano Fontana, ecco, in molti pensano, lo accennava prima anche, 100 o quanti siete parlamentari? Parlamentari siamo a 127, ma poi ci sono tutti i consiglieri regionali. Esattamente, se non sono in grado di controllare i loro, come saranno in futuro, ove mai dovessero andare al governo, in grado di controllare i conti e i bilanci dello Stato. Pensi che sia una critica giustificata? Ma io credo che è una preoccupazione che lo stesso Di Maio si è posto. Le nuove regole, ad esempio sulle liste, che danno un'ultima parola rispetto alla volta precedente molto determinata a Di Maio, tra l'altro so anche per aver discusso con lui questo punto, so che Di Maio ha timore di liste che si potevano formare come è accaduto in passato con una selezione un po' approssimativa, perché è vero che ci sono in questo caso otto aspiranti parlamentari, chiamiamolo, che ancora non sappiamo se lo saranno, ma nell'ultima legislatura il Movimento 5 Stelle ha avuto uno smottamento in Parlamento di, mi pare, 18 deputati e 21 senatori, se non vado sbagliato, comunque se non sbaglio. Quindi è un movimento che ha un po' ogni tanto delle crisi, delle scosse e qualche crisi. E' vero, in larghissima compagnia è stato il Parlamento con il più alto tasso di transumanza. No, io volevo più tornare sulla questione della gestione, perché vede la razza di queste nostre donazioni non era quello di amministrarle, tant'è che abbiamo deciso di restituirle al Ministero, al Ministero dello Sviluppo Economico, perché gestisse direttamente anche questi contributi che vengono dati alle piccole e medie imprese. Noi non volevamo stabilire un legame economico con quelle imprese che poi vanno ad attingere quei soldi, ecco perché volontariamente avevamo delegato, in ogni caso, la gestione e l'amministrazione di questo denaro al Ministero. Era proprio una restituzione. Ecco perché secondo me non si può paragonare dove invece si amministra e si ha il controllo dei conti correnti e di chi e come vengono utilizzati quei soldi. Quindi non fareste errore, mi sta dicendo. Senta, Lei è candidata in Puglia e in lista dopo di lei c'è uno di questi otto, che si chiama Maurizio Bucarella, che lei conosce bene. Lui ha trattenuto mi pare 137 mila euro, aveva dichiarato di aver fatto i bonifici e di averle restituito questi soldi, ma erano tutti i bonifici finti. Ora, le dà fastidio fare campagna elettorale e chiedere voti anche per lui. Chiaramente avrei preferito che questo non fosse avvenuto, però no, non mi dà fastidio. Io andrò, e come sto facendo in questi giorni, a chiedere il voto. Perché lui verrà eletto comunque probabilmente, no? Lui, secondo il lista, probabilmente verrà eletto. Adesso io mi auguro da persona che comunque reputavo fino a ieri, una persona per bene, che possa ritornare sui suoi passi e sottoscrivere anche lui, come ha fatto già un altro senatore, Carlo Martelli, la rinuncia al seggio. Che non è possibile, come sappiamo, no? Cioè uno viene eletto, va in Parlamento. Non è possibile, ma è una promessa di dimissioni. E dal momento che intorno a noi abbiamo tutti gli altri partiti che stanno attenti a questo aspetto, in realtà non è possibile, in realtà non è possibile, è possibile. L'importante è votare favorevolmente le richieste di dimissioni e questo è possibile. Quindi io richiederei, a fronte anche di questa critica, ai parlamentari futuri del Partito Democratico, di Forza Italia e quindi del loro capogruppo di firmare da uomini di parola l'accettazione delle dimissioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle che vorranno lasciare il gruppo. Detto questo, io andrò a chiedere con molto orgoglio e fierezza il voto per il Movimento 5 Stelle, perché al di là di Maurizio Buccarella, io sono circondata da tanti altri portavoce comunali, regionali, da attivisti che si spendono sul territorio e da questa cosa hanno avuto anche una delusione, ma non hanno arretrato di un centimetro, per cui io lavorerò per loro, per i cittadini e per portare il Movimento 5 Stelle al governo, perché questo mi interessa, al di là del singolo parlamentare. Andrea Scanzi. Beh, si torna sempre lì, Lili, al problema della classe dirigente, questa vicenda lo esplicita ancora di più. Intanto, come avete detto, degli otto coinvolti, sei si ricandidano e di questi sei, quattro di fatto passeranno, come minimo. Quindi ci sarà questo problema delle dimissioni che poi non verranno accettate, come succede. È successo per quattro anni a Vacciano, che è un senatore ex 5 Stelle, sono cinque anni che chiede di essere dimesso, dimissionato, non gli è riuscito. Ma in generale io trovo che questo sia il grande problema che ha il Movimento 5 Stelle, che è stato un po' tamponato con le ultime decisioni di limare un po' le liste elettorali, di fare dei varchi ancora più stretti, di cercare di selezionare una classe dirigente. Però anche adesso si vede, giorni dopo, si scopre quello che è un massone silente, quell'altro che andava a fare box nella palestra di spada e che ha scritto dei post terrificanti sui rumeni. Siamo sempre lì, il Movimento 5 Stelle è così trasversale, è così diverso da tutti gli altri, che contiene degli esponenti probabilmente bravi e qualificati nei confronti dei quali è lecito avere stima e dei personaggi a cui probabilmente nessuno di noi affiderebbe neanche, non lo so, la gestione di un condominio. Io li ho visti, gli otto nomi che sono stati fatti e che sono sulla cresta dell'onda negativa adesso. Buccarella, se ve lo ricordate, era uno molto stimato perché era stato insieme a Cioffi colui che era andato contro a Grillo e Casaleggio sulla vicenda dell'abolizione del reato di clandestinità. Quindi a un certo punto era diventato una sorta di idolo anche della sinistra in qualche modo dissidente. Poi si scopre che Buccarella probabilmente si è intascato dei soldi. Al tempo stesso c'era Martelli. Martelli, io lo ammetto, ogni volta che lo vedevo in televisione pensavo, ma è possibile che io in Parlamento abbia uno così? E poi scopro che invece Martelli, secondo i piani alti del Movimento 5 Stelle, doveva essere addirittura uno, non dico dei ministri, ma uno di quelli su cui affidare il futuro politico. Ecco, io mi auguro che il futuro del Movimento 5 Stelle, per loro me lo augure, sommigli di più ai Di Battista e alle Lezzi e molto meno ai Vacciano, ai Buccarella, ai Martelli e purtroppo per loro la lista sarebbe molto lunga. Fontana, nel tuo libro Un Paese senza leader, restiamo ai 5 Stelle. Di Maio, è un leader? In questo momento ancora no, non lo è perché non ha superato prove di leadership e non lo è anche un po' per la natura stessa del Movimento che, come dire, nega la radice quasi la funzione del leader. L'ideologia ancora non superata dell'uno vale uno, arriva quasi all'affermazione che chi guida il Movimento è portavoce delle stanze, delle stanze del popolo, portavoce delle stanze dei cittadini. È un movimento in evoluzione, Di Maio sta cercando di cambiarlo, non so se ci riuscirà e quando ci riuscirà. Deve ancora dare molte prove di sé e molte prove deve dare il Movimento 5 Stelle prima che possiamo definirlo un leader. Penso che Di Maio debba ancora imparare a essere un leader, Lezzi? Io invece vorrei dire un'altra cosa perché in realtà noi siamo dei portavoce, compreso Luigi Di Maio chiaramente, ma ci rifacciamo ad un programma ben preciso, a delle regole ben precise. Non ha dato segni e prove di leadership. Io direi che la composizione delle liste, la scelta delle persone, si sono scelte centinaia di persone, poi il caso due, tre, quattro persone secondo me non può fare storia rispetto a numeri importanti. Un'altra cosa, anche questa è stata una prova a mio avviso di leadership, quella di gestire tutta la questione intorno alle restituzioni mancate, che ci è arrivato addosso con un'inchiesta delle Iene e lui in maniera molto fredda, molto puntuale e molto rigorosa ha portato avanti. Perché quello che è certo, che è la reazione del Movimento 5 Stelle di fronte a chi viola anche solo quella che è una regola interna, senza aver commesso alcun reato, prevede delle mosse rigorose. E su questo Luigi Di Maio non ha battuto ciglio ed è stato molto sicuro di sé. Io credo che già in questo percorso, in campagna elettorale, stia dimostrando la sua leadership. Se di leadership si può parlare all'interno del Movimento 5 Stelle. Beh sì, ne parlate ormai anche voi, anche perché c'è un po' di quello che diceva a direttore. No, no, ma guardi, l'importante è che lui è il nostro capo politico che abbiamo scelto. Ma che male c'è a parlare di leadership? Ma non c'è un male, l'importante è che si rifaccia e osservi quello che è il programma che viene dettato poi dai cittadini. Questo, che lui non è un uomo solo al comando, lo dimostra e lo ha dimostrato essendo sempre coerente, sempre puntuale rispetto a quello che è stato il mandato che gli è stato affidato. Direttore, nel libro c'è un capitolo dedicato a Grillo. È lui in realtà ancora l'unico vero leader del Movimento 5 Stelle? Io penso sinceramente che Grillo abbia fatto la scelta a questo punto di tirarsi di lato perlomeno. Rimane, la sua influenza è fortissima, io credo che in ogni momento in cui lui dirà qualcosa in una situazione particolare peserà molto, ma credo che Grillo sia un po', se posso dire, un po' disamorato e un po' stanco. Ne ho tratto dalle cose che ha detto, da quello che ho ascoltato e anche dal ruolo effettivamente che sta prendendo Di Maio, perché questo è vero, sicuramente Di Maio ha preso in mano il Movimento, ha fatto delle scelte, ha cominciato a parlare di competenza, ha cominciato a incontrare quelli che una volta erano gli interessi, lui li chiama gli stakeholders, cosa con una definizione, i portatori di interesse, quindi sta cercando di fare un percorso che è molto lontano da quello che Grillo farebbe, tanto è vero che hanno avuto anche un po' qualche questione sulla storia delle alleanze, quindi credo che Grillo abbia fatto un percorso e voglia farsi in sua strada e si a questo punto preferisce fare altre cose. Scanzi, sono pronti per andare al governo 5 Stelle? Ah, è bella domanda che mi hai lasciato Lilli, ti ringrazio. Non lo so e secondo me non lo sa neanche Di Maio e non lo sanno neanche 5 Stelle. Per quanto riguarda Grillo io non lo so se è disamorato ma credo che non veda l'ora di tornare a fare soltanto l'artista, che non vuol dire staccarsi dal Movimento 5 Stelle, ma lui è uno showman, non vede l'ora di ricominciare a fare gli spettacoli e li fa ancora. Sul fatto che Di Maio sia un leader o meno, premesso che neanche lui secondo me conosce la risposta, io credo che Di Maio sia il capo politico più credibile che oggi ha il Movimento 5 Stelle. Non vuol dire che sia bravo, vuol dire che io non ne vedo altri all'altezza sua dentro il Movimento 5 Stelle. Poteva essere Di Battista, ma Di Battista è più un guastatore, Di Battista è più un fantasiste, più un uomo di rottura e comunque Di Battista per i prossimi anni se ne andrà nell'America Latina con la famiglia. Di Maio è l'unico che hanno da spendere alle prossime elezioni e devo ammettere, io che l'ho spesso criticato l'anno scorso soprattutto sulla vicenda Raggi, che negli ultimi mesi lo vedo meno in difficoltà di quanto non lo fosse un anno fa. Non vuol dire che adesso abbiamo trovato un nuovo Adenauer e il nuovo Churchill, per l'amor di Dio. Però credo che dentro il Movimento 5 Stelle quello messo meglio per il ruolo che gli hanno dato fosse e sia lui. Allora vi faccio vedere adesso il punto di Paolo. Un testa a testa con il Movimento 5 Stelle. Senatrice Lezzi, Berlusconi ha detto ieri sera che non c'è più il rischio che possiate vincere voi dopo il suo ritorno in campo. In realtà io ho visto anche chi ha firmato questo suo ennesimo patto con gli italiani, però non l'ha mai mantenuto i patti con gli italiani. Io quello che ricordo di Berlusconi è la pesante eredità che ci ha lasciato il suo ultimo governo. E sto parlando di 40 miliardi di clausi di salvaguardia. E' l'ultimo aumento dell'IVA che passò, grazie ai suoi decreti numero 98 e 138 del 2011, dal 21 al 22%. Grazie alle sue promesse, che sta promettendo sostanzialmente di abbassare le tasse solo a coloro i quali guadagnano più di 150 mila euro l'anno. Io ritengo che veramente non ci siano margini di sua vittoria e deve ricordare Berlusconi che è alla metà nei sondaggi rispetto ai consensi che abbiamo noi, comunque. Scanzi, Berlusconi è tornato in campo in questa campagna elettorale al 100%, forse ha ragione lui che i 5 Stelle non hanno più nessuna chance di vincere? Ma non è che c'era bisogno di Berlusconi per saperlo. Se il Movimento 5 Stelle non si allea e ha il 28 o il 30% non può governare da solo e non ce la fa, non raggiunge i numeri, c'è poco da fare. Tu dicevi che Berlusconi è tornato al 100% in campagna elettorale. Io devo dire che faccio un po' fatica per la prima volta a commentarlo e a criticarlo perché lo vedo davvero poco lucido. Io credo che abbia fatto politicamente più danni della grandine in questi 24 anni Berlusconi, ma sono settimane che lo vedo quando parla, mi sembra una persona che non è pienamente lucida. Se fossi un suo amico gli direi riposati perché ci sono delle volte che non mi sembra pienamente connesso. Poi sai, lo scenario che si evince dall'ultimo sondaggio che ho appena visto è molto semplice. O il centrodestra riesce a raggiungere la maggioranza da solo oppure il centrodestra è comunque la prima forza o meglio la prima coalizione e a quel punto dovrà bussare alla cassa di quei renziani o di quei lorenziniani e cercare di raggruppare e di fare una sorta di Rensusconi 2, Rensusconi 3. Non vedo altri scenari ed entrambi mi fanno abbastanza orrore per quel che vale il mio giudizio. Tra l'altro in serata il ministro Minniti, direttore, ha detto che si può fare una grande coalizione, è importante che ci sia dentro il PD, quindi si andrà verso questo scenario? I risultati, tutti i sondaggi dicono una cosa del genere, in questo momento non c'è nessuna coalizione e nessun partito singolo come 5 Stelle che ha la possibilità di prendere la maggioranza dei seggi. Lo scenario più probabile è il tentativo di fare una grande coalizione, una media coalizione per i numeri che avrà, non so, sarà molto complicato farlo anche perché c'è dentro la Lega, nel centrodestra che fino a questo momento ha sempre detto di non volerla fare. Barbara Lezzi, siamo in chiusura di puntata, abbiamo cominciato apprendo sul cosiddetto scandalo di Rimborsopoli, lei ha detto che ce ne sono solo 8 di cosiddette mele marce, come le chiamerebbe Di Maio, mentre invece in serata le Iene hanno annunciato che nella nuova puntata loro dimostreranno che siete 14 e che c'è dentro anche lei, quindi quello che lei ci ha fatto vedere all'inizio della trasmissione, non basterebbe per scagionarla. Lei ha qualche cosa da dire? Ieri, per quanto mi riguarda, sono stati fatti tutti gli incroci, i miei 150 mila euro, 160 mila euro, tutto compreso, ci sono e quindi su questo non ci piove. Detto questo, le Iene l'altro giorno hanno fatto una lista in cui hanno messo persino Massimiliano Bernini, il mio collega Massimiliano Bernini, che è così come certificato dal Ministero di Economia e Finanza, è quello che ha restituito, donato di più, oltre 300 mila euro e lo avevano messo nella loro blacklist. Adesso spero che vorranno motivare, se si vogliono incartare sul 3.500 euro, che io ho detto non ci sono e non ci sono, li ho versati tempestivamente, non lo so, mi sembra più che vogliano allungare il brodo anziché poi raggiungere alla fine di questa inchiesta e dire le cose come stanno. Poi, se ce ne sono altri sei, io mi auguro che lo possano motivare perché, ritorno a dire, noi abbiamo fatto un'agenda per il Ministero. Vedremo poi. Grazie, grazie Senatrice Lezzi, grazie.